Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Tutto pronto per questo ultimo match tra Tomas De Marchi e Stefano Seiti Attenzione giocatela non prendete falli per favore Tomas per favore Stefano giocatevi questa finale Niente falli Attenzione giocatela non prendete falli per favore Stefano Seiti Un bel applauso A Stefano Seiti Se la fa si fa Complimentare la Tomas De Marchi Grazie Grazie Grazie